Gli animaletti dell'orto. Peppa e George sono nell'orto del nonno. Lo stanno aiutando a raccogliere le verdure. A Peppa e George piace aiutare nonno Pig. A un certo punto Peppa vede spuntare dalla lattuga uno strano animaletto. Guardate, grida, un mostro brutto e spaventoso. George invece è contento. A lui piacciono tanto i mostri brutti e spaventosi. Ah, ma questa poverina non è un mostro. È solamente una chiocciolina, spiega il nonno. Guardate, ora si è nascosta nel suo guscio. È lì che abita. Il guscio è la sua casetta, continua nonno Pig. È una casetta molto bella, esclama Peppa. Ora non ha più paura della chiocciolina. Nonno, io e George vogliamo giocare a essere due chioccioline, dice Peppa. Allora prendete questi cestini e usateli come se fossero i vostri gusci, propone nonno Pig. Ma non mangiate la mia lattuga, chioccioline birichine. Guarda, George, siamo due chioccioline birichine, esclama Peppa. Andiamo a mangiare tutta la lattuga di nonno Pig. State distanti dalle mie belle verdurine, piccoli birbantiri del nonno. Fare le chioccioline è un gioco molto divertente. Nell'orto di nonno Pig sono appena arrivati gli amici di Peppa e George. Ora bisogna trovare un gioco da fare tutti insieme. Nonno Pig ha un'idea. Venite con me, vi faccio conoscere dei simpatici animaletti. Su una collinetta piena di fiori c'è una casetta di legno da cui esce uno strano rumore. Quella casetta si chiama Arnea e ci abitano le api, spiega nonno Pig. Sono loro a fare questo rumore. Le api raccolgono il inettare dei fiori e lo portano dentro l'Arnea per trasformarlo in miele. Mi piace il miele, esclama Peppa felice. Giochiamo a essere delle api, propone Peppa. Peppa e i suoi amici sono bravissimi a giocare alle api. Muovono le braccia come ali, saltellano tra i fiori del prato e fanno bzzzz, bzzzz, bzzzz. Ora dobbiamo volare a casa per fare il miele, esclama Peppa. Peppa e i suoi amici vanno da nonna Pig. Nonna, bzzzz, stiamo giocando alle api. Apette, per merenda volete panni tostato con il miele? chiede la nonna. Sì, rispondono felici le piccole api in coro. Mi piace molto essere un'ape, così posso mangiare un sacco di miele, esclama Susi. E Peppa esclama, a me piace anche essere una chiocciolina, così posso mangiare tutta la lattuga di nonno Pig. Fine.